tre baguette li abbiamo rifilato ai francesi tre baguette si gode si gode finalmente un'Italia che gioca a calcio ragazzi finalmente l'Italia in Italia in una partita del genere che vedevo l'Italia spacciata si vede il vero football questa è l'Italia che voglio vedere sempre ragazzi finalmente con Tonali ragazzi è cambiato completamente il gioco dell'Italia Tonali al posto di Giorginio ragazzi era ora finalmente ci mancava Tonali e si è fatto vedere ragazzi oggi Tonali uno dei migliori ragazzi scioriniamo calcio che facciamo paura la Francia veramente con quella squadra che ha è veramente poca poca roba ragazzi veramente deludente una Francia composta probabilmente da tutti i campioni veramente scarsa dal punto di vista tattico male 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 ciao ragazzi e bentornati in questo video qui e già per oggi siamo qui ragazzi in un nuovo video appunto qui nel già per scommetto il commentario del post partita della nazionale dei nostri azzurrini Francia Italia 1 a 3 ci tengo a precisare che la prima parte del primo tempo ragazzi non l'ho vista quindi mi sono perso il gol della Francia e la traversa che ha preso Frattesi perché oggi stavo facendo oggi avevo due asse di fantacalcio quindi alcune cose alcuni pezzi di partita me lo sono perso nel primo tempo diciamo metà primo tempo me lo sono perso però ragazzi ho visto tutti i gol dell'Italia ho visto il gioco che ha fatto l'Italia si è visto nel secondo tempo dominio assoluto dei nostri azzurri e si gode e si gode prima di tutto ciò un mi piace per supportare questo video mi raccomando tanti like se volete vedere l'Italia che alza un nuovo trofeo tanti like voglio vedere un'Italia che se la va a giocare con questa mentalità anche un mondiale ragazzi perché se tu giocavi così all'europeo non uscivi in quel modo ragazzi potevi andare tranquillamente in fondo poi magari perdevi con la Spagna però sicuramente te la potevi giocare invece di vedere quello schifo che abbiamo visto agli europei ragazzi finalmente il solito raccomandato di Lorenzo è quello praticamente è il nostro diciamo punto debole dell'Italia di Lorenzo perché non gioca a Belanova non capisco poi è entrato al secondo tempo se non sbaglio è entrato Cambiaso sicuramente meglio no Cambiaso giocava già titolare è entrata al secondo tempo Belanova no vabbè comunque in generale secondo me il nostro è nello debole preferisco vedere buongiorno nei tre di difesa quindi buongiorno Calafiori e bastoni però oggi diciamo che l'Italia che comunque si è composta con un 3 4 1 1 un'ottima formazione abbiamo annientato la formazione appunto Spalletti demolisce Deschamps e si gode ditemela sotto nei commenti cosa ne pensate state godendo come me o se non l'avete vista la partita io posso dire che mi sono perso diciamo i primi 20 minuti di partita poi diciamo che l'ho vista tutta la partita e sono contento dell'Italia che ho visto oggi e ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale se siete nuovi attiva della campagna di me la giornata tutta quanta la settimana mi raccomando questi giorni usciranno domani farò un post sulle pagelle dell'Italia e poi vi darò aggiornati perché ho fatto due asse di riparazione quindi poi vi dirò vi dirò farò un post sulla community in cui vi dico cosa ho preso e cosa ho tolto nell'asta di riparazione e poi vi devo mostrare due nuove ruose una che già ho fatto l'asta con i miei amici e poi del fantacalcio storico e poi farò un'altra asta che farò il 9 quindi vedrete tutti e due i video sul canale quindi rimanete sintonizzati e attivate la funzione della campagna e rimanete aggiornati tutta quanta la settimana se vi va seguitemi i social link sotto in descrizione parliamo e recuperate di tutti i video che vi siete persi tornate qua sotto nelle schede a fine video parliamo della partita prendiamo gol veramente in modo imbarazzante praticamente al primo minuto dopo pochi secondi facciamo se non sbaglio il record del gol preso quasi come abbiamo preso contro la Spagna che abbiamo fatto il gol preso record ecco diciamo l'Italia si avvicina a un altro record negativo per il gol preso però ragazzi poi ho visto una reazione siamo partiti malissimo ma poi ho visto una grande Italia un'Italia che morde ragazzi un'Italia che morde reagisce al diciamo alla batosta presa praticamente ai primi minuti segna Barcola ci prende in contropiede errore clamoroso di Lorenzo e l'Italia subisce gol poi praticamente al trentesimo arriva il gol ragazzi c'è stato no prima c'è stata la traversa di Frattesi non ricordo a che minuto c'è stata una traversa clamorosa di Frattesi che ci è mancato tanto così per il gol veramente siamo stati sfortunati perché potevamo già pareggiare la confrattesi e poi ragazzi arriva il gol di Di Marco che vuoi dico ragazzi un capolavoro un'azione di sciorinamento calcio che applausi chapeau ragazzi tonali alla Francesco Totti fa un colpo di tacco clamoroso al volo e la dà di tacco al volo veramente colpo così di tacco al volo di prima senza quello lo guarda con la coda dell'occhio l'inserimento di Di Marco e Di Marco tra l'altro di sinistro al volo fa un gol spettacolare difficile tra l'altro perché questo pallone praticamente si va a insaccare dalla sinistra va praticamente sotto l'incrocio a destra che scavalca praticamente il portiere e lì veramente un gol che Vodica fa uno dei gol più visti uno dei gol più belli visti nell'ultimo periodo regà perché gol del genere dall'Italia non mi pare di ricordare un gol clamoroso così bello con un'azione soprattutto così bella perché l'azione merita veramente un bel applauso il colpo di tacco di Tonali e poi il super gol di Di Marco e l'Italia pareggia al trentesimo poi arriva il raddoppio al secondo tempo con l'Italia comunque in aggressività l'Italia che chiude il primo tempo meglio rispetto alla Francia e inizia meglio rispetto alla Francia il secondo tempo arriva il secondo gol il gol del 2-1 del raddoppio dei nostri azzurri su un'altra bellissima azione gol di Frattesi questa volta segna e ci porta in vantaggio sul 2-1 palla bellissima di Reteghi vede con la coda dell'occhio l'inserimento di Frattesi proprio di prima intenzione davvero attaccante lo vede con la coda dell'occhio glielo dà un passaggio filtrante e Frattesi lì si inserisce come al suo modo di inserirsi un grande inserimento il gol che in scivolata in cui poi il portiere non ci può arrivare perché è stata una bellissima azione difesa della Francia un colabrodo lasciata veramente la nostra azione ci hanno veramente lasciato entrare come come il burro sul pane veramente tanta roba difesa della Francia deludente e abbiamo fatto il gol del 2-1 poi nel finale arriva anche la ciliegina ragazzi ce la mette Raspadori ragazzi Giacomino Raspadori che non faceva una buona partita da parecchio tempo che non vedevo Raspadori così in forma diciamo fa il gol praticamente al 70 non mi ricordo se è partita titolare no Raspadori entra dalla panchina entra dalla panchina e segna tra l'altro su assist di non mi ricordo chi ha fatto l'assist comunque grande gol difesa anche qui si è fatta trovare in preparata arriva il gol del 3-1 che chiude tutte quante le porte alla Francia la porte chiude tutte quante le porte alla Francia e l'Italia vince 3-1 giocando a calcio sono contento lasciatemi dire l'unica cosa l'unico piccolo rammarico è che i ragazzi purtroppo si sono infortunati Calafiori penso sia pure un infortunio abbastanza serio eppure un infortunio se l'ha procurato frattesi speriamo non sia nulla dei gravi visto che ce l'ho pure affanto abbiamo avuto sfortuna da quel punto di vista perché poi comunque l'Italia anche con gli infortunati è riuscita a regge botta è riuscita comunque a far vedere buone cose la prossima sarà lunedì contro l'Israele se non sbaglio non mi ricordo speriamo bene io vi porterò sempre il post partita mi raccomando restate sintonizzate sempre e comunque forza Italia forza Azzurri iscrivetevi da Giorgio è tutto alla prossima voglio vedere quest'Italia sempre forza Azzurri iscrivetevi e ciao belli vamos ciao iscrivetevi